ecco qua ho terminato di lavorare la maglia sono andate a realizzare in totale 10 motivi quindi dal primo che abbiamo lavorato nella parte del collo che questo io ho lavorato 1 2 3 4 5 6 8 9 10 motivi per una lunghezza totale di 63 centimetri l'ultimo motivo che ho lavorato è stato lavorato completo quindi fino a realizzare le 9 maglie alte ma anziché chiudere le 9 maglie alte con una catenella sono andate a realizzare quattro catenelle un punto basso nel punto basso sottostante quindi questa è l'unica modifica che ho fatto al motivo per avere una punta un pochino più evidenziata anziché andare a chiudere il punto come abbiamo fatto per tutto il nostro lavoro io ho mantenuto la misura con 4 catenelle fino a questo motivo qua che in pratica corrisponde alla fine del mio punto vita negli ultimi tre motivi ho lavorato 5 catenelle di separazione per andare ad aumentare un po nella parte del fianco perché ho comunque ho lavorato una maglietta abbastanza lunga io ho terminato il mio lavoro non farò nessun tipo di ripresa neppure nella parte del collo ma se avete lavorato uno scollo più ampio potete riprendere con un giro di maglie alte separate da una catenella la parte iniziale del lavoro per me non è necessario perché uno scollo perfetto per quanto riguarda la misura e la taglia che sto realizzando ma volendo è possibile riprendere adesso il collo e andare a realizzare queste maglie alte per stringere un po la vostra lavorazione nel caso fosse necessario questa è la posizione dello scalfo manica dove abbiamo agganciato poi il nostro motivo nella parte sotto del lavoro abbiamo dato ampiezza alla lavorazione e questo è il progetto terminato che vi propongo in questo video tutorial i grammi di filato 200 grammi di filato non li ho terminati mi sono rimasti 30 grammi il filato vi ricordo il filato basic cotton della merceria un filo di passione quindi è distribuito esclusivamente da questa merceria online trovate il link di riferimento al filato nelle info box di questo tutorial io spero che questo progetto vi piaccia che vogliate realizzarlo vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto sul mio canale per il prossimo video ciao a tutti a presto ciao a tutti Grazie.